La criminalità organizzata è fra noi, le chesi, e ne siamo consapevoli. Nell'ultima redazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, l'è ecco citata 23 volte. I passaggi riguardano sia le ultime operazioni, vedi l'inchiesta Metal Money, sia la presenza radicata sul territorio della malavita che si è rafforzata alla luce del lockdown. A questo proposito, basta citare le parole dell'ex prefetto Castrese De Rosa, ai tratti caratteristici della consorteria malavitosa da anni radicata nel territorio lecchese, si legge, per come emergono dalle inchieste degli ultimi vent'anni, risultano essere stati doni a formare all'interno della società civile quel senso di tacita e remissiva consapevolezza o acquiescenza al fenomeno criminale medesimo ai suoi referenti. Il lockdown, inoltre, è stato da subito considerato come un'opportunità dalla malavita e, per contrastarlo, le istituzioni hanno preso le contromisure. Dunque, Lecco è stato costituito un osservatorio mirato grazie al quale, già a giugno 2000, è stata emessa un'interdittiva nei confronti di una società infiltrata che aveva chiesto un finanziamento di 160.000 euro. Un'attività di controllo mirata che ha portato risultati citati nella stessa relazione, vale a dire le 21 interdittive antimafia in due anni, emesse dalla prefettura di Lecco nei confronti di società che operano in tutti i settori, sale bingo, autodemolizioni, ristoranti, bar e persino pompe funebri. Nella relazione si parla poi della presenza di cosche legate alla criminalità organizzata calabrese con due locali, una di Lecco e una di Calozio Corte, famiglie storicamente insediate sul territorio. Nelle inchieste emerge un quadro altrettanto chiaro sui settori nei quali operano, spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione, insieme a componenti di altre nazionalità, reati predatori e migrazione clandestina. Senza dimenticare infine il traffico di rifiuti, la frode e l'autoriciclaggio.